buongiorno a tutti sono donna ernesto buona domenica a tutti quanti voi vi ho detto che in modo o nell'altro ogni tanto vi dava un po di fastidio e oggi è uno di questi momenti bene io mi trovo nella parrocchia di casandrino maria santissima assunta in cielo vi ho ringraziato e vi ringrazio ancora per il gesto bellissimo che avete fatto in tanti sia casandrino che anche di altri paesi fuori casandrino quando abbiamo lanciato l'appello dei quaderni che servivano penne matite zainetti è veramente la provvidenza di di attraverso di voi ha dato tantissimo tantissimo di questo non posso fare altro che ringraziarvi bene io mi permetto ancora di approfittare ma con piena libertà e con semplicità di cuore lancio anche quest'altro appello noi abbiamo anche il guardaroba per le persone in difficoltà perché non mi piace dire poveri perché i poveri siamo tutti quanti noi si può essere ricchi di materialmente ma poveri di tante cose poveri di sentimenti belli giusti di misericordia di tante cose allora mi piace dire per le persone in difficoltà bene noi abbiamo il guardaroba che viene aperto ogni un martedì il primo martedì del mese e il terzo martedì del mese dove distribuiamo indumenti dati dalla provvidenza delle persone in buone condizioni lavati stirati e improvfumati e rammendati questa è una cosa bella io vi ringrazio tutti però ecco mancano delle cose importanti quali delle cose che a volte uno non ci pensa ma sono necessarie mancano gli indumenti intimi tipo magliette intime t shirt slip calzini sia per uomini che per donne per bambini maschi e femmine allora io mi rifaccio al vostro buon cuore alla vostra provvidenza sapendo che il signore lascia sempre senza parole ecco noi abbiamo bisogno di questo perché ci sono tante famiglie che hanno questa difficoltà e se possiamo alleviare un pochino un pochino questi problemi queste difficoltà questi bisogni bene ringraziamo il signore allora ecco questo è il mio appello se potete se volete però nuovi nuovi la roba intima nuovo costa poco a volte tre slip possono costare tre euro non lo so una maglietta bianca intima penso che non costi molto perché la roba intima è giusto è giusto ecco che si dia nuova sigillata sia per i grandi che per in particolar modo per i bambini e io vi ringrazio quel poco di tanti fa molto tutto quello che facciamo all'altro lo facciamo al nostro fratello e lo facciamo a noi stessi un giorno Gesù disse fate agli altri quello che voi vorreste che gli altri facciano a voi a volte se noi ci troviamo in difficoltà e c'è qualcuno che ci dà una mano anche piccola questa è una cosa bella e non la dimentichiamo mai non la dobbiamo dimenticare mai e se questo vale per chi ci dà una mano anche noi dobbiamo fare lo stesso e allora ecco se volete se potete ecco in questi giorni venite in parrocchia e lasciate a me donna antonio e anche qualche responsabile del guardarobba ecco questi indumenti intimi per donne uomini bambini maschietti e femminucce calzini slip magliette e non lo so altre altre cose che servono perché noi non ci facciamo caso ma a volte ecco si manca ci manca anche questo allora alleviare un pochino questo peso è una cosa bella va bene non mi dilungo buona e santa domenica vi lascio soltanto con questo pensiero del vangelo il vangelo dice che un uomo che non era della cerchia dei discepoli stava facendo del bene e discepoli disse a Gesù guarda maestro c'è qualcuno che non sta insieme a noi che sta facendo del bene nel tuo nome che dici tu e Gesù dice che bello che bello sappiate che ogni persona credente o no ogni volta che allarga il cuore gratuitamente e lo allarga in generosità verso gli altri chiunque esso siano qualsiasi razza appartengono colore appartengono anziani o vecchi giovani o bambini o adulti bene si sta facendo senza saperlo a dio che si riveste di quella umanità buona domenica santa domenica che dio vi benedica e che veramente questa giornata così bella oggi è uscita una giornata bellissima veramente possa risplendere sempre questo cielo azzurro che richiama anche questa mia piccola questa maglietta che il cielo azzurro che il sole possa sempre che è dio possa sempre illuminare i nostri cuori ciao che dio vi benedica